Se nuova Pescara deve essere, deve portare benefici ai cittadini e al territorio. Con queste parole il sindaco Chiara Trulli commenta la decisione del Consiglio Comunale di Spoltore di ieri che dopo Pescara e Montesilvano ha votato per lo slittamento della fusione delle tre città al 2024. Secondo il primo cittadino infatti bisogna affrontare immediatamente tutti gli atti preliminari che devono precedere l'istituzione della nuova Pescara. Il Consiglio Comunale ha approvato il rinvio al 2024 con una posizione granitica della maggioranza quindi 12 consiglieri si sono espressi per il sì. Abbiamo assistito all'uscita dall'aula del gruppo capitanato da Marco della Torre. Si sono opposti al rinvio due consiglieri comunali di minoranza però abbiamo portato a casa il risultato di difendere il territorio di Spoltore e consentire un altro anno che è indispensabile per non fare un salto nel buio rispetto alla grande Pescara. Il timore è che non si arrivi abbastanza preparati alla istituzione della nuova città. Perché come tutte le fusioni consideriamo ad esempio una fusione tra società. Comunque ci sono atti preliminari che garantiscono la bontà di un'operazione di fusione. Anche il Presidente del Consiglio Comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, che ha più volte ribadito la contrarietà a rinvio ritenuto assolutamente insufficiente, si è allineato poi e ha votato con la maggioranza per senso di appartenenza. Sicuramente non è un passaggio nella storia del nostro paese in dolore. Quindi è chiaro che ci può essere anche una sofferenza, che io rispetto di tutte le posizioni che compongono il Consiglio Comunale, perché Spoltore è per molti versi ancora incontaminato dalla spinta cementificazione, ha un bilancio assolutamente positivo. Quindi abbiamo una serie di conquiste che anche una buona amministrazione da tanti anni porta avanti, che non vorremmo vedere vanificato da un processo di fusione fatto brutalmente, come uno strappo. Quindi prosegue il Sindaco, è questo che il Comune di Spoltore invoca. La realizzazione di un percorso a passi che siano sostanziali, cioè che si lavori veramente pancia a terra, partendo prima dalla fusione dei servizi strategici, per poi fondere gli apparati politico-istituzionali.